Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte. E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servo. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo Restituisci quel che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti. E andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Chiedere perdono è un'altra cosa che chiedere scusa. Io sbaglio, ma scusami, ho sbagliato. Ho peccato, niente da fare una cosa con l'altra. Peccato non è un semplice sbaglio. Peccato è idolatria e adorare l'idolo. L'idolo dell'orgoglio, della vanità, del denaro, de me stesso, del benessere. Tanti idoli che noi abbiamo.